La tua analisi è stata giusta, penso che al primo tempo era una partita contrata a tutte e due parti dove si rischiava poco, poi al secondo tempo abbiamo alzato il ritmo, per i 20 minuti abbiamo fatto anche abbastanza bene, non abbiamo anche creato situazioni da fare gol, dopo di quello si è indissagrato proprio il calo fisico anche parte dei giocatori che hanno fatto tre partite in sei giorni, poi magari qualcuno come Scorosta che non gioca da anni, e là quando si abbassa il ritmo penso che escono fuori le nostre mancanze e si ha visto che loro con il cambio di Raimondi, di Esposito hanno acquisito un altro libero.